La Camera di Commercio e il sistema camerale in genere non si può limitare al quotidiano, quindi al registro imprese. Dobbiamo da un lato progettare, dall'altro promuovere, ma soprattutto rilevare quelli che sono i momenti di eccellenza delle produzioni del territorio. I libri che sono stati realizzati su due storie di culture d'impresa, perché di questo si tratta, e quindi dell'azienda Callipo e dell'azienda Librandi, oggi presentate in Camera di Commercio alle giovani generazioni, sono certo che costituiranno un modello non solo di successo economico e commerciale, ma un modello etico. E' importante questa riunione, soprattutto con i ragazzi che sono all'ultimo anno della scuola media superiore, perché sentono dalla voce degli interessati, dei diretti attori, e dal signor Librandi, che è una bellissima azienda nella zona di Sciro per il vino, e da me, da Callipo, sono delle storie di vita, delle storie vissute nell'azienda, di aziende che sono cresciute, che hanno tantissimi dipendenti, e soprattutto la testimonianza che in Calabria si può fare l'impresa. Noi siamo per questo, soprattutto aperti alle scuole, tanto più che quest'anno abbiamo iniziato un percorso di studi, dei ragazzi che vengono all'azienda per vedere anche i lavori che facciamo noi, perché crediamo molto nei giovani, e vogliamo che i giovani crescono e prendano esempi positivi.